Oh, ho detto Davenport, Iowa. Volevo dire Champagne, Illinois. Ok, hai vinto tu. Grazie. Ecco, adesso siamo pari. Ti avviso, Alan. Se ti azzardi a rifarlo, ti faccio saltare i denti davanti. Ti ascolto. Aspetta un attimo. Li ha comprati con i suoi soldi e non vuole che tu li mangi. Oh. Tu hai mai fatto terapia di coppia? Sì, perché? La farò con Chelsea e vorrei sapere quello che mi aspetta. Ti piacerà tanto. Davvero? Assolutamente. A ogni seduta ti ritroverai con la tua dolce metà, mentre ti recide i testicoli si infila nella tua cavità toracica e arriva così al tuo cuore. E perché mi dovrebbe piacere? Oh, no, è orribile. Ma vale la pena, perché stai pagando un estraneo per guardare la tua vita che si inabissa. Insieme ai tuoi soldi, alla tua casa, alla tua auto e all'ultimo brandello di rispetto per te stesso. Forse non ho chiesto la persona giusta. No, 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 no. Io sono la persona giusta. Quando io e Judith cominciamo, eravamo una coppia con qualche problema, invece alla fine sono venuto a vivere da te. La dovrei benedire, la terapia di coppia. Quello non è uno dei miei budini, vero? No. Salve, Charlie. Entra. Non aspettiamo, Chelsea? È già qui.